Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri al piccolo Emanuele Gianfagna che proprio oggi festeggia il suo terzo compleanno. A Emanuele l'augurio di trascorrere questa giornata e la sua vita circondato dall'affetto della sua famiglia e di tutte le persone che gli vogliono bene. Naturalmente tanti auguri anche ai genitori Rita Pirosanto e Paolo Gianfagna e a tutta la famiglia. Naturalmente gli auguri più sinceri ed affettosi da parte mia e di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Calcio di Lega Pro, il campo basso verso il debutto interno a Selva Piana. 2.000 i posti disponibili. Capitolo lavori stadio. La commissione di vigilanza dei pubblici spettacoli proprio ieri ha ispezionato lo stadio di Selva Piana ed ha confermato una capienza di circa 4.000 spettatori che quindi secondo le normative vigenti anti-covid divisa per due fa 2.000 persone. Stamane a riguardo abbiamo interpellato l'assessore allo sport al comune di Campobasso Praetano il quale ha asserito che si è fatto tutto ciò che era stato richiesto per incrementare la capienza fino ai 7.500 spettatori. Ad oggi Campobasso Taranto di sabato prossimo si giocherà di fronte soltanto a 2.000 presenze di cui 1.100 sono gli abbonati per il Campobasso e 200 saranno destinati ai tifosi tarantini. Per la prevendita sono dunque conservati ai tifosi rosso-blu locali solo 700 tagliandi. Davvero un danno evitabile per le casse della società rosso-blu. Si è avuto molto tempo a disposizione tutta l'estate per portare a termine le opere presso Selva Piana ma evidentemente per ora non è stato sufficiente. Si sarebbe potuto condurre un lavoro più coordinato con le richieste della stessa commissione di vigilanza e non arrivare nei giorni a ridosso della partita stessa. Non solo un martedì di allenamenti ma anche ultimo giorno di mercato. Il 31 agosto il Lega Pro ha segnato dei colpi non da poco. Lavellino si è assicurato le prestazioni dell'attaccante Antonio Di Gaudio da poco svincolatosi dal Chievo estromesso dal campionato di Serie B. Accordo biennale fra il giocatore e la società Irpina. Per gli addetti ai lavori si tratta di un colpo da 90 per la categoria. Di Gaudio è ricordato anche per la promozione dalla B alla A con la maglia del Carpi di Castori. Segnò anche in un Carpi Inter terminato 1-2 per i Nerazzurri. Si tratta di un centrocampista offensivo 32enne sulle cui tracce c'erano anche Bari e Palermo. Il Picerno ha rinforzato il reparto offensivo con l'arrivo del brasiliano svincolato Reginaldo. Anche egli in Italia ha avuto un passato illustre con la maglia della Fiorentina, del Parma e del Siena. Per citarne alcune, lo scorso anno Reginaldo ha militato nel Catania. Fino a ieri era svincolato. Proprio in serata il Bari ha girato in prestito al Palermo il difensore molisano Marco Perrotta, originario di Campodipietra. Il Campobasso non ha compiuto operazioni come aveva anticipato la dirigenza rosso-blu che spera siano più rapidi del previsto. I tempi di recupero del centrocampista Ladu. La squadra va bene com'è per dirigenza e staff. L'assortimento è davvero vasto per Cudini, specialmente in attacco il reparto più toccato dal mercato estivo. Il punto di Avellino ha fatto certamente morale sia nel gruppo squadra che nell'ambiente della tifoseria. Probabilmente il Campobasso dovrà fare una partita tatticamente diversa rispetto a quella del Partenio. Giocando in casa potrebbe provare ad impostare il gioco per far male ad un taranto neopromosso, proprio come i rosso-blu molisani. In questo senso l'assenza di Ladu potrebbe pesare più del previsto. In ogni caso la compattezza e l'unione sono le armi in più di un gruppo che ha voglia di continuare a stupire dopo aver regalato ai tifosi una serata certamente storica ad Avellino, coincisa con il ritorno fra i professionisti, ed un pareggio soddisfacente. Campobasso Taranto di sabato sarà una delle otto gare del turno di Lega Pro, trasmesse da Sky, che da quest'anno è aggiudicataria di una quota minima di partite da poter trasmettere in diretta. Nelle ultime ore sul sito dell'Ascoli è apparsa una notizia, secondo la quale il gruppo americano Nord Six Group, guidato da Matt Rizzetta e Nicola Cirrincione, sarebbe interessato a rilevare il 31% delle quote dell'Ascoli. La trattativa viene riportata in stato avanzato, ma non ancora ufficiale. Che i due fossero ai saluti con il Campobasso non era difficile immaginarlo, ma a questo punto l'epilogo appare davvero vicino. Tornando alla gara del partenio di Avellino, il tecnico della compagine bianco-verde, ai nostri microfoni. Ci hanno messo in difficoltà, abbiamo fatto una fatica tremenda a riprendere il filo del discorso, abbiamo sbagliato tanto, troppo, poi però piano piano siamo cresciuti. Sì, va bene che l'ha fatto il solito giocatore, ma è il giocatore che abbiamo preso per quel motivo lì. Sono d'accordo che nel secondo tempo stavamo facendo già meglio anche con l'ingresso di Scognamiglio, perché dava tranquillità quando specialmente aveva la palla. No, io l'unica cosa che dico è facile parlare dopo quello che si è visto. E' chiaro che avendo dei giocatori non al meglio della condizione, noi abbiamo cercato di tutelarli e forse abbiamo anche sbagliato, ci sta di sbagliare. Poi abbiamo cercato nel secondo tempo, perché nel primo tempo onestamente facevamo anche fatica a farsi vedere. Stavamo troppo spesso dietro gli avversari che correvano più forte di noi e più veloce di noi, anche perché molto probabilmente sono più avanti di noi come condizione. Già nell'amichevole ci hanno dato filo da torcere e oggi ci hanno rifatto un'altra volta, per i primi 20-25 minuti. Poi la partita però l'abbiamo ripresa, l'abbiamo cercato di gestire. Il primo tempo è male, onestamente male, con poche idee, la verità, qui nessuno deve dire le cose che non sono. Però secondo me poi alla fine la squadra ha dimostrato che ha un'anima, che ha un carattere, che ha un temperamento, ha costruito tanto, poi ci sono anche queste partite fatte così che poi le perdi anche, perché quando non riesci a chiuderle in una certa maniera fai fatica. Credo se si aspettava un inizio così aggressivo del Campobasso, probabilmente anche in ragione dell'amichevole che avete fatto a Campobasso lo scorso primo agosto, perché insomma in base a quella lei già aveva avuto un po' conoscenza della squadra di oggi. Ma io più che Campobasso siamo stati noi a partire a due all'ora, lenti, prevedibili. Io non ho contato quanti palloni abbiamo giocato all'indietro su forte, se la palla non gira e va a due all'ora è chiaro che tutti diventano bravi, tutti diventano aggressivi, al di là delle loro qualità, però noi troppo piano, si portava sta palla a due all'ora, poi si scaricava sempre dietro, non rischiavamo mai niente, noi non abbiamo giocato né niente. Un po' troppo poco per poter pensare di poter vincere una gara con una squadra che ti aspettava e ripartiva. Tutto qui, abbiamo fatto fatica, per tanti minuti abbiamo fatto veramente fatica e l'abbiamo letta anche male, è uscita in ritardo. È la verità, però lo ripeto, secondo me poi dopo siamo stati bravi, abbiamo costruito tanto, abbiamo anche fatto delle buone azioni. Secondo me sì, nel secondo tempo ci siamo. Il raggruppamento F, dove tutti si attendono che verranno inserite Vastogirati e Matese, dovrebbe essere a 20 squadre, con l'inserimento anche della San Benedettese, una delle escluse dalla Lega Pro. Per quel che riguarda le due ruote, domenica ad Indiprete si è svolta l'unica gara del dodicesimo trittico del Molise. Ai nostri microfoni il presidente della ciclistica Castelpetroso. Giancarlo Tamburi, presidente della ciclistica molisana, settimo Memorial Tamburi qui a Castelpetroso, nella frazione Indiprete. Non è la prima volta naturalmente che succede, è un momento importante per tutta la comunità che vive un momento di sport. Sì, qui siamo contenti che oggi si fa la manifestazione per il settimo Memorial Tamburi Carmine, ma siamo un po' delusi dalla situazione per il trittico del Molise, che è stata annullata la gara di Oratino e Boiano. Un'assenza che non ci voleva per voi, scombussola un po' i piani, c'è da capire il vero motivo per il quale poi le cose si sono messe così? Sì, scombussola un po' tutti i piani perché si viene a mancare tutte le tre gare del trittico e c'è da capire che sta succedendo. Tante le attività, le solite tra l'altro, che hanno deciso e l'hanno sempre fatto di contribuire alla manifestazione, siete rimasti comunque uniti in attesa di buone nuove? Sì, siamo rimasti uniti, qui c'è il presidente di Oratino, c'è il presidente di Boiano, ci siamo tutti. Volete capire il motivo per il quale ci sono stati questi annullamenti? Sì, vogliamo solo capire che cosa è successo, tutto qua, basta. È andata così, però ci servono dei chiarimenti. Anche lenti chiamati in causa, soprattutto sulle domande e poi sulla tempistica delle risposte e delle altre varie necessità. Sì, di domande che noi abbiamo fatto, delle tempistiche risposte che ci hanno ribalzati tipo ping pong e alla fine non hanno fatto fare nulla. Calcio a 5 di Serie A2. Oggi via la preparazione atletica per il Cusso Molise. È arrivato un nuovo rinforzo per il team di mister Sanginario Davide Porcari, laterale classe 99 proveniente dal Venafro, affermato con il team universitario. Per la Serie B la Chaminade ha completato la batteria dei centrali anche nella prossima stagione. Antonio Dinunzio farà parte del roster della prima squadra. Classe 96, Antonio è cresciuto nel settore giovanile dei Rosso-Blu e per il terzo anno consecutivo disputerà il campionato di Serie B. Sì, intanto il club ha in programma per dopodomani l'open day della scuola calcio dalle ore 16 nell'area sportiva Sturzo. Sarà possibile conoscere le attività e gli istruttori per la prossima stagione. Per il calcio regionale l'Isernia ha ripreso gli allenamenti. Il club bianco celeste sta preparando la trasferta di Monte Falcone nel Sannio per il secondo turno di Coppa Italia. Filippo Organo, preparatore atletico del Città di Sernia. Forse ti mancavano questi pomeriggi uggiosi qui a Lancellotta. Soltanto che se partiamo già da inizio agosto inizia ad essere un po' pesante. Battute a parte, primo match ufficiale, un risultato abbastanza ampio contro lo Spinete. Sì, prendiamo per buono le indicazioni che ci ha dato questa partita. Ancora siamo in fase di rodaggio perché i ragazzi stanno lavorando pesantemente. va bene, va bene. Siamo soddisfatti. Parliamo a questo punto anche delle amichevoli che avete affrontato con avversari di categoria superiore sotto il punto di vista atletico che naturalmente la tua competenza, le risposte che hai avuto sia con l'Alto Casertano che con il Brindisi. No, ripeto, stiamo vedendo il naturale corso della preparazione. Quindi le risposte sono state ottime sia contro le avversari di categoria superiore sia con questo primo impegno ufficiale che abbiamo fatto sul nostro campo che con un paio di allenamenti abbiamo fatto sul nostro campo. Quindi anche noi dobbiamo abituarci al nostro campo ancora. Guardando avanti comunque sei richiamato a ripetere l'impresa accoppiata a campionato e coppa conosci la piazza ma anche la società ma soprattutto una buona fetta di giocatori che hai già avuto in passato e con i quali sei stato protagonista. Eh sì, 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 vincere non è mai facile, insomma, sembra una fase fatta ma è così. Sì, per conto dei ragazzi, insomma, sono sette, otto ragazzi con i quali, insomma, ho vinto già e speriamo di ripeterci perché l'Isene ha bisogno di vincere il campionato quest'anno e noi ce la metteremo tutta, noi come staff e i ragazzi tutti, dal primo all'ultimo. Ritorno in Granata per Paolo Scampamorte, questa volta nel ruolo di direttore sportivo. Paolo Scampamorte, ci ritroviamo, è cambiato il ruolo, sono rimasti gli stessi colori quelli di Granata, allora che effetto fa a essere direttore sportivo dell'Olimpia agnonese? Sì, è cambiato ruolo, è cambiato look. No, dai, devo dire che per me è un onore innanzitutto tornare con la società dell'Olimpia agnone perché credo che dopo tanto tempo stare lontano da casa, uno cresce, fa esperienze, però poi credo di dover ancora dare qualcosa all'agnone e insieme alla società mi hanno dato questo ruolo sicuramente di responsabilità ma al tempo stesso per me è un piacere, lo farò con entusiasmo e cercherò di portare a termini i nostri progetti. Sicuramente abbiamo risalto un po' in ritardo ma, come si dice, lavorando, sudando e si potranno comunque togliere delle soddisfazioni. Però dai, iniziamo piano, il progetto è ambizioso, è un progetto medio-lungo, quindi siamo con i piedi per terra soprattutto e ricreiamo quell'entusiasmo che magari alla comunità di Agnone manca da un po' di tempo. L'avvio è stato sicuramente positivo, vittoria a Trivento nel segno tra l'altro di due agnonesi doc, dove si potrà arrivare? Sì, forse questo oggi, al di là del risultato, è la ciliegina sulla torta perché vedere poi il tabellino con due agnonesi, come hai detto tu doc, uno è Litterio che ha fatto comunque la storia della Serie D e uno è Antonelli che è giovanissimo ma già sappiamo la sua storia, io penso che oggi, al di là del risultato, siamo fieri e orgogliosi di essere ripartiti da loro due. Loro due che sono il perno di questa squadra, vicino a loro si aggregheranno altre figure però ripartite con gli agnonesi. Questo è forse, come ho detto prima, la chioccia da cui parte questo progetto, far tornare gli agnonesi anche allo stadio e riassaporare un po' quell'entusiasmo che c'è sempre stato nella nostra comunità. La Turris è ripartita da tante riconferme, il club ha scelto, tra l'altro, di non puntare sul salto di categoria d'ufficio. Pasquale Videtti, direttore sportivo della Turris, avete mantenuto l'ossatura dello scorso anno, avete fatto qualche innesto migrato, quale può essere l'obiettivo della Turris? Allora sì, abbiamo mantenuto il gruppo che per noi è la cosa fondamentale degli ultimi due anni. È entrato Schipani, è entrato Abdul, il ragazzo nostro che stava vasto Girardi, tornerà Ridwan Ali, dopodiché la rosa la possiamo ritenere quasi chiusa. Gli obiettivi è tornare ad essere la matricola terribile che ha cominciato lo scorso anno. Sarebbe bello poter giocare di fronte al pubblico, che al Vincenzo Cosco è stata sempre la vostra arma in più. È fondamentale, è fondamentale perché il calcio vive di pubblico, soprattutto le nostre categorie. Speriamo di poterlo fare, credo che i presupposti ci saranno con i protocolli attuali e speriamo che non ci fermino quest'anno. Per la seconda uscita ufficiale, l'Aurora Aururi sarà impegnata in casa del Guardia Alfiera, tornando alla gara interna con il Campomarino Ciliberti. Ritroviamo Ciliberti che era già nel campionato molisano, Se sei passato all'Ururi, il salto di categoria c'è stato l'ultimo, tra l'altro giocavi, eri un ex, giocavi proprio a Campomarino dopo essere stato nel Chiauti. Ad Aururi per questa fase di rilancio, importante in un gruppo di ragazzi, ci credi tanto. È arrivata questa prima sconfitta, però voglio dire comunque era importante riprendere confidenza col calcio. Sì, come hai detto tu Pino, era importantissimo ritrovare confidenza con il campo. Sono contento di questa nuova esperienza, sono contento anche per la categoria, che ha fatto questo salto di categoria, ritornerò a giocare anche a Molise, qui è una bellissima piazza dove si può giocare a pallone, dopo c'è gente sana. Speriamo di centrare l'obiettivo della salvezza. Hai giocato anche a Serra Capriola nella Frentania, bella gara hai fatto, tra l'altro tosta in mezzo al campo, hai combattuto, quello che praticamente è anche un po' il tuo ruolo. Sì, io diciamo che comunque giocando una mezzata cerco di dare sia qualità che quantità. Oggi è una partita brutta, dal punto di vista c'è una partita molto di quantità, quindi ho cercato di dare il massimo in mezzo al campo. Loro giocavano senza punti di riferimento davanti, quindi venivano a fare molto densità in mezzo al campo e quindi c'era bisogno di quel lavoro. Senti, questa prima prestazione può andare perché è l'inizio di questa stagione, ovviamente per voi l'importante è il campionato. L'importante per noi è il campionato, raggiungere l'obiettivo, speriamo di raggiungere l'obiettivo a fine dell'anno. La Coppa comunque siamo ancora in fase sperimentale, quindi cerchiamo di allenarci bene e farci trovare pronti per il campionato. Palla a volo maschile di Serie B, il pacchetto degli schiacciatori dell'Energy Time si completa con la conferma di Simone Cannazza. il leccese classe 96 si appresta a disputare il settimo anno con la maglia bianco-rosso-blu. Il mercato della Spike Campobasso non è ancora chiuso, la società è alla finestra per arricchire ulteriormente un roster già competitivo. Questa sera a Villa dei Capo il raduno della squadra. Tennis, grande vittoria di Federico Iannacone al challenger di Como. Il tennista Campobassano ha superato 7-5, 3-6, 6-4 Ugo Carabelli, numero 200 al mondo, nella classifica ATP. Da oggi a venerdì Open Day per il Ripalimosani, appuntamento alle 17.30 presso il campo sportivo Marco Vitantonio per bambini e bambine dai 3 ai 16 anni. Dei 13 anni in su si raccomanda di avere il Green Pass o tampone effettuato entro le 48 ore. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio!